Alternativa Popolare auspicava le non dimissioni del Sindaco, così è stato. Il gruppo consigliare ha ribadito l'appoggio incondizionato a questa maggioranza a partire dal bilancio che presto arriverà in Consiglio. Sicuramente. Dunque noi sul discorso delle dimissioni del Sindaco avevamo espresso una posizione di considerare e invitare il Sindaco a riflettere bene. Pur comprendendo le sue legittime aspirazioni ad una possibile candidatura in Parlamento noi come gruppo abbiamo sempre ritenuto che i cittadini ci hanno dato un mandato che è quello di 5 anni e arriverà al 2019. Non abbiamo fatto mai mancare il nostro appoggio all'amministrazione e questo è stato evidente prima e evidente anche adesso. Quindi il prossimo bilancio, che sicuramente è un bilancio difficile da affrontare alla luce di tutti i tagli che ci sono e delle misure da dover prendere, su questo bilancio penso che questa amministrazione esige ulteriormente il suo futuro. Un'amministrazione è una maggioranza che secondo lei riuscirà ad arrivare alla scadenza naturale del mandato al 2019? Io me lo auspico. D'altronde di qualche mese fa, prima dell'estate, un documento programmatico che è stato sottoscritto da diversi consiglieri che costituiscono la maggioranza. Poi ci sono state alcune vicende che hanno riguardato alcuni di questi consiglieri che hanno fatto delle prese di distanza, però comunque ad oggi non hanno mai formalizzato né una loro adesione all'opposizione né tantomeno delle dichiarazioni esplicite contro l'amministrazione, anzi proprio in occasione di questa discussione che c'è stata sulla possibilità di dimissioni. So che il sindaco ha avuto incontri con questi consiglieri dissidenti, chiamiamo così, consiglieri che comunque ad oggi fanno parte della maggioranza. In consiglio come un anno stanno seduti nei banchi della maggioranza e sembrerebbe che loro hanno garantito un loro appoggio. Quindi sul bilancio io ritengo che passerà. Sul futuro dell'amministrazione io mi auguro che l'amministrazione termini a sua scadenza naturale del 2019 perché sono ancora tante le cose da affrontare, soprattutto adesso con una città che nota a tutti dopo il terremoto i problemi che ci sono legati alla ricostruzione e lasciarla in mano senza un'amministrazione non sarebbe una cosa degna e comunque rispettosa del mandato che i cittadini ci hanno affidato.